Ogni saldatura è una nuova sfida, avvincente, impegnativa, sempre diversa. Perché cambiano le situazioni, le condizioni e i materiali, che non concedono errori. Questo è il mio lavoro. La precisione e l'attenzione non sono mai abbastanza. Nella saldatura a MIG, TIG, MMA, arco sommerso, così come nel taglio al plasma, servono gli strumenti giusti, progettati e prodotti con la stessa passione che io metto ogni giorno nel mio lavoro. Fili, elettrodi, bacchette TIG, frutto di un'accurata selezione delle materie prime. Il costante controllo dei processi produttivi garantisce che i prodotti mantengano un elevato standard qualitativo che perdura nel tempo. Test rigidi e meticolosi assicurano ottime prestazioni a chi come me ha bisogno di prodotti certificati. Queste macchine sono progettate e prodotte per soddisfare qualsiasi impiego, su qualsiasi tipo di materiale e per rispondere velocemente alle mutevoli condizioni di lavoro. Ho scelto INE, in grado di fornirmi tutti gli strumenti necessari, dai consumabili alle saldatrici, gli accessori e i prodotti per la mia sicurezza. Ho scelto il mio partner, sempre affidabile e presente. Un team di esperti che conosce bene il mio lavoro e che sa indicarmi le soluzioni migliori. Ora so di poter ottenere il massimo, anche in condizioni difficili e con materiali complessi. Non conta quanto sarà difficile, conta solo il risultato. E alla fine so che ne è balsa la pena. Grazie per la visione!